Andiamo! Bisogna fare qualcosa perché se non ce lo tengono in albergo. Sai cosa c'erano? C'erano quelle pillole che avevamo dato, che ci aveva dato omeopatiche, ci aveva dato il veterinario. Quei granuli? Granuli, i granuli. L'hai visto quanto è casa d'Italia? Io spero che voi non gli avete dato quei granuli dell'anno scorso perché se no... Poi ragazzi, è Pasqua! Dai apriamo l'uovo, dove è Roby? Roby c'è l'uovo! E la mamma? La mamma sta di là. Ma dove è la mamma? Non so. Va a vedere. ha preso i granuli? WAM! 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 Da! mamma no vi fallo tuo è tirata male